Si è svolta negli uffici della società Calat Ambiente SRR che ha sede a Gran Michele una riunione dei sindaci dei 15 comuni del Calatino nel corso della quale tra i punti all'ordine del giorno era previsto il rinnovo del CDA. Ebbene i sindaci di Castel di Udica e Radusa rispettivamente Ruggero Strano ed Emilio Cosentino fanno sul serio ed hanno sollevato un vizio di incompatibilità dei membri del CDA, circostanza che qualora fosse accertata potrebbe rimettere in discussione l'operato dell'ex ato rifiuti. Il sindaco di Castel di Udica ha sollevato alcune questioni pregiudiziali importanti sulla legittimità della composizione del Consiglio di Amministrazione di Calat e bisogna verificare la rispondenza al decreto legislativo 39 del 2013 dei membri del CDA perché questa è una cognizione molto importante da verificare in quanto il responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione dovrebbe appunto fornire il parere legale sulla corretta composizione del CDA. Ad entrare decisamente nel merito della questione è il sindaco di Castel di Udica Ruggero Strano il cui primo cittadino in virtù del decreto legislativo 39 del 2013 ha richiamato l'attenzione dei sindaci del Calatino ed ha dato mandata ad un legale mediante una delibera di giunta di promuovere un'azione legale nei confronti della società d'ambito Calat Ambiente. Una questione di legittimità all'interno del CDA in base al decreto legislativo 39 del 2013 poi qualcuno segnalando a mio avviso una situazione di incompatibilità dei membri del CDA e addirittura dell'amministratore di Calat Impianti perché sarebbe dipendente di Calat Impianti e amministratore. A parere mio e a parere del decreto legislativo 39 del 2013 ci sarebbe una gravissima incompatibilità. Poi c'è qualcuno della società Calat dei sindaci che dice che la legge anticorruzione non è stata ricevita in Sicilia in quanto a Statuto Speciale, dimenticando che l'ANAC proprio ha inviato una nota pesante dicendo che l'anticorruzione vale per tutta Italia. Non è che la Sicilia si chiama fuori l'anticorruzione, in Sicilia si devono rispettare le leggi. Stamattina siamo qua tutti i sindaci per valutare un punto all'ordine del giorno che per me è irricevibile come punto perché si parla di nomina del CDA e qualora fosse un sindaco per me c'è una incompatibilità a meno che il responsabile della trasparenza e anticorruzione ci metterà tutti quanti al riparo con una nota dove dice che c'è la compatibilità nel CDA.